Buongiorno, buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi dei capitoli 94 e 95 di Dragon Ball Super e spiegare cosa è successo. Continua l'arco narrativo di Cell Max, ma per fortuna stanno addando abbastanza veloci e ci sono stati alcuni cambiamenti, ma non sono stati così drastici da riuscire a migliorare il migliorabile, ma ovviamente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo ed iniziamo subito, ma non prima però di aver messo un bellissimo like per supportare il video ed iscriviti se non l'hai già fatto, ti ringrazio. Il capitolo inizia con il finto rapimento di Pan, dove vediamo le medesime cose che accadono nel film, ossia la figlia di Gohan mette KO il tizio del fiocco rosso e poi riconosce piccolo, e mettono in atto il piano del rapimento. Adoro ovviamente la caratterizzazione di Pan, mi fa morire dalle risate come anche i modi di fare del Namechano, che prova a guidare quella navicella pur non sapendola guidare. Queste sono le scene che adoro in Dragon Ball, perché ci portano un po' indietro nel tempo, ai tempi della prima parte di Dragon Ball, che era piena zeppa di gag addobbata ovviamente da mazzate fatte anche abbastanza bene. Inoltre qui capiamo perfettamente che purtroppo Gohan per colpa del suo lavoro e dello studio non riesce più a percepire il ki come dovrebbe, infatti non riconosce piccolo, cosa che invece la figlia ha fatto in un anno secondo. Qui penso che ci vogliano far capire che Pan è un altro talento, forse anche più del padre. Infatti dopo aver girato il video di Pan che è stata catturata dal fiocco rosso e viene fatta poi vedere dal padre, Gohan si arrabbia come una bestia, non riconoscendo appunto piccolo e si reca al quartiere generale del Red Ribbon per poter salvare la sua figlioletta e qui inizia lo scontro con Gamma 1. Da notare però questo piccolo errore, infatti leggiamo il numero 1 sul completo di Gamma 2, perché quest'ultimo ha due corna in testa e Gamma 1 ne ha solo una. Penso sia un errore di poco conto e verrà sicuramente aggiustato quando faranno il volume. Lo scontro tra Gohan e Gamma 1 inizia e l'androide si dimostra superiore, dato che impara subito i movimenti del nemico ed agisce di conseguenza, e nemmeno con il Super Saiyan riesce a contrastarlo. Quindi qui piccolo deve forzare un po' la mano per poter sbloccare Gohan, anzi risbloccare il Saiyan. E fa quindi finta di far del male Pan, la cosa avviene uguale al film Super Hero, con tanto di mano del Namechano che sorregge la bambina, scena che mi ha fatto sorridere al cinema ed anche qui. E finalmente il figlio di Goku si decide a fare sul serio e sfodera la forma Mystic. Alla fine però in questo capitolo, a parte qualche scena di combattimento extra rispetto al film, non ci ha dato niente di nuovo su cui poter parlare. Ma almeno stiamo arrivando quasi alla fine e spero davvero di vedere una versione nuova di Cell Max, per rendere le cose più interessanti e non una copia in colla del film. Ma parlando invece del capitolo 95, qui già dall'inizio hanno cambiato qualcosina, dando una spiegazione logica della presenza di Krillin e C-18 nello scontro con il nuovo Cell. Infatti vediamo quest'ultimo è la sua famiglia, dove Marion è cresciuta un bel po' ed è praticamente uguale a quando la vediamo nel torneo Tenkaichi del finale di Dragon Ball. Comunque Krillin riceve una chiamata dal sergente, che gli rivela l'ubicazione del nuovo quartier generale del Fioccolosso, quindi Krillin andrà lì. Ma non da solo, infatti con lui andrà ovviamente C-18, penso anche Marion. Gente, c'è anche lei e sappiamo che la figlia di Krillin non è così scarsa come crediamo, quindi io sono curioso di vederla all'opera e spero davvero che ci sia nello scontro con Cell Max. A parte ciò, la battaglia tra Gohan e Gamma 1 continua, ma la forma Mystic del Saiyan è fin troppo superiore e l'Androide non riesce ad imparare in fretta coi movimenti e quindi inizia a soccombere. Naturalmente entra in campo anche Gamma 2 per dare manforte a suo fratello, possiamo dire che sono fratelli secondo me. Ma finalmente Piccolo si rivela ed usa la sua prima trasformazione, quella giallina, ed inizia a lottare con Gamma 2 per poter riprendersi la sua rinincita. In queste vignette si accentua parecchio la differenza di potenza che c'è tra Gohan Mystic e Yellow Piccolo, chiamiamolo così, perché il Saiyan riesce tranquillamente a contrastare Gamma 1, ma il Nameciano è ancora un po' inferiore rispetto all'altro Gamma. Naturalmente i due androidi del Dottor Edo sono uguali a livello di potenza, ma il problema non sta solo nell'essere superiori o no ai due Gamma. La parte difficile sta nel resistere fino all'esaurimento delle loro batterie e a quanto pare Gamma 1 sta ancora all'82%, quindi Gohan e Piccolo devono fare in modo di sconfiggerli in un suo colpo, perché se continuassero così perderebbero a lungo andare. Lo scontro alla fine è simile a quello visto nel film, forse hanno cambiato alcune cosucce, e mi piacciono inoltre le parti dove Gohan e Piccolo colpiscono i Gamma e danno il braccio o la gamba coperta dall'aura, per enfatizzare naturalmente la potenza del colpo, e mi è piaciuta come scelta stilistica, ed anche molto. Poi sempre in questo scontro iniziano ad entrare delle pulci nelle orecchie dei Gamma, perché forse forse il loro creatore è stato ingannato da Magenta, e lo sta usando in una maniera sbagliata e diversa dall'essere un supereroe che salva i buoni, perché sono loro ora che stanno agendo da cattivi, alla fine comunque Piccolo sfodera la sua forma orange e il capitolo finisce qui. Allora, ci sono state belle mazzate in entrambi i capitoli, ed è praticamente la prassi per Dragon Ball, e devo dire che la nuova trasformazione di Piccolo è stata disegnata molto bene, mi piace di più questa versione del manga rispetto a quella del film, che vabbè non è che ci volesse tanto a superarla. Ora sappiamo bene cosa succederà, Magenta attiverà Cell Max e ci sarà un casino esagerato, ma c'è qualcosa che manca, ci avete fatto caso? Cioè, che fine hanno fatto Goten e Trunks? Dovevano andare anche loro in questo luogo? Io penso che li vedremo vestiti da supereroi, ed ovviamente faranno la fusione sbagliata, e spero davvero che dopo di essa ci mostreranno anche la fusione fatta bene, che nel film ci hanno scammato al meglio. Comunque, se non mostrano la forma perfetta di Cell Max, penso a altri due o tre capitoli e finisce quest'arco narrativo, ma io come sempre incrocio le dita e spero che migliorino del tutto, perché possono farlo e ne sono sicuro. E voi invece, cosa ne pensate di questi capitoli e del video? Non vi dimenticate di visitare il sito di RedDoo, dove potete trovare dei poster a tema Dragon Ball che sono veramente stupendi, ed usando il codice GUN otterrete il 10% di sconto, quindi approfittatene e trovate il link un po' ovunque. Iscrivetevi ovviamente al canale se non l'avete già fatto ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati per tutti i prossimi video. Date ovviamente uno sguardo al video uscito sul secondo canale, che è molto interessante, e noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.